Con gli Scorpions è stato un passo in avanti, abbiamo fatto un passo in avanti in attacco e abbiamo fatto un passo in avanti soprattutto rispetto ai Warriors e quindi bene, non siamo ancora minimamente dove vogliamo essere, però meglio e quindi abbiamo avuto queste due settimane per migliorare e per continuare a migliorare e a lavorare in attacco vogliamo arrivare alla partita dei Guelfi sicuramente molto ma molto più organizzati e molto più preparati di quanto non eravamo durante i primi incontri del campionato Hanno giocato i giovani che hanno fatto esperienza ed è un bene perché con la stagione lunga che avremo serviranno sicuramente Con i Guelfi sicuramente sarà la partita più difficile che abbiamo affrontato fino adesso è la partita più importante ma perché è la prossima partita e dobbiamo consolidare i miglioramenti che abbiamo fatto in attacco vogliamo migliorare in difesa è un ottimo banco di prova andare a Firenze e giocarcela contro i campioni d'Italia e vedere dove siamo